Siamo qui con il grande Sandro Mazzola, bandiera interista e uno dei campioni più straordinari del nostro calcio. A lui chiediamo un parere sull'ultimo derby d'Italia giocato sabato a San Siro. A me è sembrato il derby della paura, dovesse dargli un titolo perché la Juve secondo me aveva paura di perdere tutto quello che aveva fatto fino a quel momento e l'Inter è stata molto intelligente, ha giocato una partita di contenimento, centrocampo, aggredendo, saltando l'avversario quando c'era da saltarlo, però nessuna delle due secondo me ha voluto rischiare di vincerla per paura di perderla e probabilmente anche giusto così in questo momento del campionato. Crede che questo derby d'Italia sia arrivato troppo presto? Sì, sicuramente troppo presto, anche perché così era una partita un po' fino a se stessa, ci sono ancora molte partite, puoi recuperare, puoi perderne ancora e quindi forse anche questo è stato il motivo per cui per tutte e due poteva andare bene il pari, non hanno voluto rischiare di vincere per non rischiare di perdere. Si è vista la mano di Mazzarri già su questa Inter, a maggior ragione in un big match come quello contro la Juventus? Sì, sì, si è vista nettamente la mano di Mazzarri, l'Inter sembra un'altra squadra, ci sono giocatori che io alla seconda partita ho detto ma questo era quello dell'anno scorso e il fratello, specialmente gli esterni che vagavano per il campo, cose di questo tipo, quindi di sicuro poi da quello che ho sentito da amici che sono ancora dentro, a qualcuno ha detto che quando è arrivato se continuate così state qui un anno perché non vi cediamo e non giocate mai, guardate le partite e vi allenate e io credo che questo più i sistemi di allenamento abbiano portato a vedere un'Inter diversa, un'Inter all'altezza della situazione. Quindi a giudicare dal piglio con cui questa Inter ha affrontato una squadra comunque che gli addetti ai lavori dicono sia più forte in questo momento come la Juventus, Mazzarri le sembra l'uomo giusto? Sì sì ma io l'ho detto in epoca non sospetta, anche perché bisogna andare a vedere la storia di un allenatore come di un giocatore, non ha mai fallito e non è facile in dieci anni, adesso non so se sono nove, dieci, otto, undici, aver fatto una stagione fallimentare, ha fatto stagioni mediocri e stagioni buone e stagioni ottime, quindi vuol dire che uno che ha determinate mentalità, determinate caratteristiche e poi il carattere che secondo me è un carattere da Inter il suo.